Il furlo è una delle mete, se vogliamo, per amanti della natura, dello spazio aperto, più gettonate che abbiamo nel nostro territorio. Anche questo è, prossimamente, sarà gestito dalle proloco? Sì, devo dire che grazie alla provincia di Pesorubino e nella sua persona del presidente Daniele Tagliolini, che crede fortemente nelle proloco della nostra provincia e quindi si sta impegnando tantissimo per la promozione di tutte le proloco del territorio provinciale. Quindi avremo in gestione la proloco del furlo, il suo presidente Alvaro Guazzaroni, avrà in gestione il centro IAT, quindi il front office della riserva del furlo. Quindi è anche un altro modo per aiutare le attività turistiche e le attività commerciali di questo territorio. Grazie, sempre grazie ai volontari che la proloco del furlo ha messo in campo e quindi anche qui si può vedere come le proloco della nostra provincia stanno cambiando, si stanno modificando e dico con grande soddisfazione che si parla sempre, si critica della proloco uguale la salsicciata, non è più così. Nella nostra provincia devo dire che sta cambiando tantissimo e si stanno evolvendo talmente tanto le cose che ormai sta diventando veramente, le proloco stanno diventando veramente un punto di riferimento turistico, di valorizzazione e di promozione del nostro territorio veramente molto importante.